Ciao, sono Cristina della profumeria Mirella di Faenza. Da quanti anni è in attività la profumeria e da dove deriva il nome dell'insegna? La profumeria è aperta dal 1963, quindi sono 57 anni di attività e infatti ci è stata conferita la targa di bottega storica e il nome deriva dalla mia mamma che si chiama Mirella e tuttora si diverte a lavorare e tra l'altro la sua consulenza è richiestissima da numerosi clienti. C'è un ricordo della tua infanzia che ti ha fatto capire che la profumeria sarebbe stato il lavoro della tua vita? Beh, io sono cresciuta in negozio e ricordo che fin da bambina facevo i compiti nel retro bottega. In più, durante le vacanze a Faenza veniva organizzato un mercatino dei bambini ai quali io partecipavo sempre e la mia bancarella dei profumi piaceva talmente tanto, avevo tanti clienti che ero costretta ad assumere delle mie amiche come commesse e quindi non ho mai avuto intenzione di cambiare strada, anche perché ho sempre avuto la passione per la bellezza. Quale parte del tuo lavoro ami di più? Sicuramente il contatto con il pubblico dà tante soddisfazioni, ma la cosa che mi diverte di più è allestire le vetrine, dando libero sfogo alla mia creatività. Descrivi la profumeria con tre aggettivi Per me la profumeria è terapeutica, raffinata e armoniosa. Ciao a tutti, vi aspetto in negozio qui a Faenza, la profumeria Mirella. Ciao a tutti, vi aspetto in negozio qui a Faenza, la profumo alla mia creatività. Ciao a tutti, vi aspetto in negozio qui a Faenza, la profumo alla mia creatività.